VIA COLOMBO A pochi passi dalla nostra bellissima piazza, vicino ai bar colmi di gente che bevono il caffè, guardate il paesaggio che si mostra alla gente. Questa, signori, è merda di Colombo. Guardate quanti metri di muro ricoperti da questa schifezza. Questo, signori, è un bagno pubblico, ma un bagno pubblico per piccioni. Volevamo esorteare chi di dovere per risolvere questa incresciosa situazione. Qua si tratta di salute pubblica. Immaginate se vostro figlio dovesse cadere e con le mani entrare in questa schifezza. Avete capito perché siamo partiti da Via Colombo? Ricordatevi che si tratta di salute pubblica. Chiudiamo qui la seconda puntata del TG Orgy. Grazie, alla prossima.